In un anno la grande ha perso 584 imprese, ma ci sono segnali di ripresa. L'opera della carità salvese per le fasce più debole è di quella praedese che spende 300.000 euro in aiuti. Alba candidata a ospitare la quinta conferenza sul turismo del vino 2022, mentre una ricerca rileva troppa chimica nei vigneti e la scuola enologica compie 140 anni. Ostacoli da alcuni comuni e da privati nella gestione pubblica dell'acqua. Vantaggi e difficoltà nell'integrazione europea, intervista Franco Chittolina. La giornata della memoria tra testimonianze e iniziative. Un albese racconta la sconfitta di Trump in America. Le diocesi cunesi celebrano la giornata del seminario. Si lavora al ponte Sultana a Ramonchiero e Vezza spende 6 milioni sui corsi d'acqua. Nuovo presidente del consorzio dell'Asti. Cresce la produzione di castagne anche in pianura. Questa e tant'altre notizie su Gazzetta d'Albenedicole online dal martedì.